ragazzi un saluto dal vostro amato e amatissimo bianconero come va spero bene e ce l'abbiamo fatta l'italia dopo tre quattro partite tra perse pareggiate riesce a battere l'inghilterra a milano a san siro 1 a 0 con il grandissimo ex sassuolo con il grandissimo ex giocatore del sassuolo raspadori che adesso è un fortissimo giocatore del napoli destro a giro nel secondo tempo imparabile per il potere dell'inghilterra l'italia ha vinto è stata anche una partita meritata perché l'italia in questi 96 minuti perché l'abito ha concesso alla fine sei minuti di recupero dopo il novantesimo del secondo tempo è stata una partita direi meritata perché l'italia ha giocato bene e ovviamente da sportivo una squadra se una squadra gioca bene merita di vincere se una squadra in campo alla cune merita di perdere l'inghilterra ha giocato anch'essa bene però ha sfruttato poco meglio le occasioni quanto l'italia l'italia le ha sapute gestire meglio le occasioni rispetto all'inghilterra così e così dai l'importante che l'italia è riuscita a vincere tre punti importanti ricordiamo che non è non sono i mondiali tanto su già dodici anni ragazzi che l'italia non ci fa andare al mondiale è una tristezza assoluta però posso dire che siamo in nation's league e c'è sempre una piccola speranza però mai dire mai il bianconolo dice non tocchiamo mai fondo l'italia ha vinto sono contento ma sono più contento per aspadori che sta facendo tanto successo con gratulatio